Un treno carico di speranza e solidarietà. Così si può definire la raccolta fondi organizzata dai colleghi ferrovieri di Monia, Gragnoli, Aretina e mamma di Emili, tre anni. La piccola ha una malattia molto rara e i colleghi di Monia le hanno voluto fare una sorpresa. Hanno raccolto fondi, 2540 euro e li hanno donati alla famiglia. Questa a sua volta ha deciso di consegnare i soldi al reparto di pediatria di Rezzo che segue con cura e amore la piccola Emili. Una bella storia di solidarietà tutta Aretina. La nostra fondola e la missione del pediatra, del pediatra ospedaliero è proprio quella di venire incontro a situazioni di bisogno, bisogni assistenziali, bisogni assistenziali molto particolari come può essere nel caso come di Emili di una patologia estremamente rara, un caso di ogni 5 milioni di bambini, quindi potete capire difficoltà di diagnosi e anche difficoltà di cure. Noi siamo stati un ponte, tuttora lo siamo, con l'ospedale Gaslini per la cura di questa bambina. Siamo molto contenti, oltretutto la terapia biologica che sta facendo i suoi effetti, la bambina sta già meglio. Questo è una grande soddisfazione e quindi anche siamo molto soddisfatti di questo ritorno che è questa donazione. La destinazione sarà una cosa molto importante, il completamento del letto, postoletto attrezzato di semi intensive pediatriche, di cure semi intensive pediatriche nel nostro reparto.